In una svolta drammatica per il caso giudiziario che ha coinvolto Cosimo Commisso di Siderno, la Corte d'Appello di Catanzaro ha emesso una sentenza di revisione che ribalta le accuse decennali contro il 74enne precedentemente condannato a 12 anni di reclusione come presunto capo dell'omonima consorteria criminosa. La decisione della Corte d'Appello si basa su una serie di elementi chiave, principalmente la valorizzazione della sentenza del maxiprocesso crimine e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. La Corte ha inoltre fatto riferimento alla motivazione della Corte d'Appello di Napoli che nel gennaio del 2019 ha assolto Commisso da pesanti accuse di essere stato il mandante di diversi omicidi e tentati omicidi durante la faida di Siderno avvenuta tra il 1989 e il 1991. Una vicenda che risale all'indagine sulla faida che ha portato il suo arresto nel gennaio del 1993. Due processi successivi hanno portato ad una condanna all'ergastolo per gli omicidi e i tentati omicidi e a una condanna a 12 anni per associazione per delinquere di stampo mafioso. La sentenza di revisione del 2019 ha portato alla revoca della condanna all'ergastolo. I difensori di Commisso hanno successivamente presentato una richiesta di revisione anche per la sentenza relativa al reato associativo mafioso. Un processo che si conclude oggi davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro che ha emesso una sentenza nel marzo del 2022 depositata a luglio del 2023 e che oggi diviene irrevocabile. I giudici catanzaresi hanno richiamato la sentenza dei colleghi napoletani sottolineando la valorizzazione della sentenza crimine e le intercettazioni acquisite durante l'indagine. In particolare le conversazioni registrate all'interno della lavanderia Ape Green. La Corte ha confermato così che la ricostruzione della compagine criminale della famiglia Commisso e emersa da trali prove identifica un capoclan diverso da Cosimo Commisso. In conclusione i magistrati catanzaresi si allinano alla Corte d'Appello di Napoli affermando che emerge la verità processuale secondo cui non può ritenersi provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la qualità di capoclan a Cosimo Commisso. Una sentenza che rappresenta un capitolo cruciale in questa lunga saga legale, gettando nuova luce sul ruolo di Commisso nella faida di Siderno e sollevando anche domande sulle accuse che lo hanno perseguitato per decenni.